Pesanti ritardi anche stamattina per i passeggeri di Trenord fino ai 36 minuti accumulati dal Milano Centrale Cremona delle 12.20 a causa dell'ennesimo guasto a un passaggio a livello tra Villetta Malagnino e Gazzo Pieve. Trenord ha indicato la competenza di RFI, poi si è saputo che un'automobile ha causato il guasto e i pendolari hanno ricordato i numerosi tagli e i servizi di manutenzione per ridurre le spese con la conseguente dismissione di capanni con materiale di ricambio tra una stazione e l'altra e la riduzione del personale mentre il dibattito si accanisce sull'autostrada che da vent'anni non si può costruire. L'avviso è uscito alle 14.04 con ripercussioni e tempi lunghi per le corse successive ma ci sono stati problemi anche sulla Cremona Treviglio alla stessa ora per la necessità di prolungare i tempi di preparazione del convoglio all'interno del deposito e un quarto d'ora perso. I pendolari non credono sempre alle giustificazioni della società ferroviaria Lombarda. Ieri mattina i problemi ai semafori in realtà non c'erano come ha notato una passeggera del Cremona Codogno Milano delle 6.54 mentre altri si lamentavano per il freddo eccessivo nelle carrozze. Il treno da Piacenza è passato davanti a quello da Cremona ed è arrivato prima a Milano. Orario non rispettato per 13 minuti oggi pure sulla Cremona Brescia in diversi casi dei bus sostitutivi dei treni cancellati che dovevano servire a ridurre i ritardi. Il nuovo orario di Trenord ha deluso parecchi viaggiatori. Legambiente Lombardia ha segnalato le linee cremonesi tra le più penalizzate dai tagli eppure il 46 per cento dei convogli lombardi ha più di 32 anni con età ancora maggiore rilevata a Cremona e dal 2010 i biglietti sono aumentati del 30 per cento. I passeggeri sono aumentati eppure gli investimenti non si fanno e le lamentele crescono. Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!